Crisi economica ed antilocali, Montesilvano si interroga su strategie e soluzioni possibili per gestire in tempo di vacche e magre la cosa pubblica. In un periodo in cui i tagli aumentano in maniera considerevole, ma dall'altro lato ci sono cittadini che vogliono la conferma degli standard acquisiti da tempo o addirittura il miglioramento degli stessi, bisogna trovare una via di compromesso e quindi oggi abbiamo chiamato a convegno i maggiori esperti del settore proprio per tracciare quelle che possono essere le linee che ci possano condurre a fare sì quelle economie necessarie per il buon funzionamento della macchina amministrativa ma allo stesso tempo non scontentare i cittadini che si aspettano sempre interventi maggiori. Se una risposta non è pronta all'uso, allora molte amministrazioni sembrano optare per l'uovo oggi. E la saggezza popolare basta con le promesse e si punta almeno a terminare lavori promessi da altri ed oggi ancora incompleti. Noi stiamo ripartendo da tutte le incompiute, non ha senso programmare nuovi lavori pubblici quando ce ne sono tantissimi fermi perché mancano di finanziamento, mancano del completamento della progettazione. L'altro giorno abbiamo inaugurato il mercatino del pesce, che era il mercatino ittico, che era fermo e box, come si suol dire, da oltre dieci anni. Adesso poco per volta stiamo rimettendo in moto tutti i lavori pubblici fermi. Noi ci auguriamo di poter completare anche il distretto sanitario per la fine dell'anno, assicurare quindi tutti quegli standard, quelle aspettative che il cittadino ormai attende da troppo tempo.